Il Covid non molla e continua a preoccupare l'opinione pubblica e mentre i casi sono in ascesa, questa settimana è pari a 725 su 100.000 abitanti rispetto ai 510 della scossa settimana, secondo un monitoraggio che è stato fornito dal Ministero della Salute, spunta una nuova variante che tiene in allerta gli esperti. A lanciare l'allarme è l'immunologa Antonella Viola. Il virus continua a mutare, a diventare sempre più trasmissibile, ha spiegato. Non c'è motivo di ritenere che diventerà buono, possiamo solo sperarlo. C'è una nuova variante molto contagiosa che si nasconde bene al sistema immunitario. Ci sono dati che indicano che gli animali sono un serbatoio per il virus, può nascondersi così per poi tornare a infettare gli esseri umani. Secondo Antonella Viola è giusto uscire dall'emergenza dopo due anni di pandemia, ma la partita, attenzione, non è chiusa. Si pensi che ci sono zone dell'Africa dove appena il 3% della popolazione è vaccinato. Sull'eventualità di estendere la platea della quarta dose, l'immunologa è cauta. In questo momento non ci sono dati che suggeriscono di amministrarla tutti. Le indicazioni scientifiche dicono che potrebbe valere la pena farla sulle persone più fragili o gli anziani. Il mio consiglio, conclude, è continuare a usare la mascherina nei luoghi pubblici perché il virus sta circolando molto e sono l'unica protezione che funziona, preferibilmente quelle FFP2.